Assieppanti, M.T. Ayers, eccoci a parlare di Netflix e delle sue 10 uscite di novembre 2021, da guardare subito al giorno d'uscita. Se sapeste già quali sono, non sareste certo qui, quindi partiamo! La prima cosa di cui voglio parlare, però, non sono i film o le serie, ma i costi mensili di Netflix, che esattamente lo stesso giorno di uscita del video del mese scorso, sono stati alzati ancora una volta. Io personalmente capisco perché alzare i prezzi dal loro punto di vista, ma dal mio inizia a diventare un'operazione un po' rompente. C'è da dire che il costo base rimane a 7,99, ma hai solo la visione in qualità standard su di un dispositivo alla volta. Se vuoi l'HD, ora devi pagare ben 12,99 e se vuoi il 4K, addirittura 17,99. Non sono certe cifre che sconvolgono, però è chiaro che se prima pensavo di tenere l'abbonamento sempre attivo, ora magari qualche mese lo staccherò. Io confido anche che arriverà un pacchetto annuale scontato, come stanno testando da altre parti nel mondo, ma vedremo. Per il momento la mossa di Netflix non mi sta esaltando troppo, considerando che per me la qualità media dei prodotti è scivolata parecchio nell'ultimo periodo. Pochi, ma buoni, please. Ma parliamo delle uscite che il mese è pieno di cose molto promettenti. La prima è il film The Harder They Fall, in uscita il 3 novembre. Si tratta di un film western sui generi, che riscrive ulteriormente le storie già romanzate da oltre un secolo nel vecchio ovest americano. I protagonisti, infatti, sono tutti di colore e uno dei capi banda è addirittura una donna. Se non è fantascienza questa, non so, magari lo è fondazione. La storia è incentrata sulla reunion di una vecchia banda di fuorilegge, quando imparano che il loro alcerimo nemico è uscito di prigione. Una storia di vendetta, quindi, e il film ha poi un cast di tutto rispetto, con Idris Elba, Jonathan Mayors, Regina King, solo per citarne alcuni. Direi assolutamente da vedere. Passiamo ora ad una uscita di animazione, Arcane, in arrivo il 7 novembre. La storia si inserisce nel mondo del gaming di League of Legends, che ha un fandom molto ampio e soprattutto una lore abbastanza ampia. La storia vorrebbe comunque ampliare questo mondo dandole diverse sfumature. Io sono parecchio stupito da certe dichiarazioni, soprattutto quando già dal trailer si intuisce che la storia sia incentrata sui campioni della Lega e sul controllo che si hanno della magia tramite l'extech. A questo punto dovrò proprio vedere i primi episodi per capire se sono riusciti a mantenere le aspettative così alte che si sono dati. Ed eccoci al film sicuramente più atteso, Red Notice, in uscita il 12 novembre. Ha un cast veramente stellare con Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne The Rock Johnson. La storia è incentrata sulla realizzazione di una rapina grandiosa e difficilissima che obbliga a mettere assieme una squadra, che dire sgangherata, ma soprattutto piena di attriti, è poco. Infatti si tratta di due artisti della truffa e di un inaspettato profiler dell'FBI che sembra propendere per lasciare la scrivania e darsi al furto. Un film che non sembra minimamente prendersi sul serio e che sicuramente ci regalerà, oltre alle impossibili emozioni, anche diverse risate. A questo punto siamo arrivati al momento topico, ma che dico, proprio carico a molla del mese. L'uscita di Strappare lungo i bordi è prevista per il 17 novembre e visto come sta caricando Netflix questa serie di Zero Calcare mi sa che o si fa il botto o il povero Zero Calcare mi va direttamente alla neuro. Sono convintissimo, seguendo i suoi lavori da una vita e dopo aver visto il trailer più volte che sarà un'ottima serie ma il fatto che la stiano caricando così tanto un po' mi fa paura e mi dispiacerebbe se a rimetterci fosse proprio Zero Calcare. Comunque io sono pronto a fare subito play e a sentire pure la voce di Mastra Andrea nei panni dell'armadillo. Una serie che mi aspetto dal tono assolutamente disacrante e profondo come ogni lavoro di Zero Calcare. Grande! Eccoci ad una serie coreana attesissima, almeno per me. Si tratta di Hellbound in uscita il 19 novembre. Già vi avevo consigliato Squid Game ed è stato un successone. Anche troppo per me, ma ne parlerò magari con acque più calme. Quindi cosa aspettarci da questa serie dark e piena di mostri diciamo infernali? Per me non farà il botto ma certamente farà un bel vedere e dimostrerà ancora di più come il mercato coreano si stia imponendo come culturalmente importante in tutta l'Asia sostituendosi a quello giapponese. Comunque la trama di questo Hellbound è relativamente semplice e riprende quella del manga originario. Una serie di demoni dell'oltretomba appaiono per portarsi via delle persone il tutto per portare a termine una profezia. In tutto questo una setta religiosa sfrutta gli eventi per aumentare il suo potere. Direi che è un po' una denuncia sociale visto i problemi che hanno con le sette religiose. Alla fine ci siamo. Una serie live action è pronta ad uscire. Signori e signori eccovi Cowboy Bebop. Tutta per voi dal 19 novembre. Io attendo di vederla sperando sia un adattamento migliore di fondazione ma ci vuole poco. E poi possiamo dire tutto sul casting ma per me potrebbe funzionare. Purtroppo portare live action, un'opera nata, anime e poi passata al manga non è mai stato facile, anzi una vera impresa. Qualcosa di accettabile probabilmente solo in Ikigami o 20th century boys, così a pensarci rapidamente. Quindi la speranza è che almeno abbiano mantenuto lo spirito e il rapporto tra i personaggi che erano il vero fulcro centrale dell'anime. Sulle storie spero siano belle e avvincenti in pieno stile cacciatori di taglie spaziali con ambientazione fantascientifica simile a The Expanse. Attendiamo e vediamo insieme, insomma, ormai manca poco. Per fine mese è in arrivo una miniserie drammatica True Story in uscita il 24 novembre con Kevin Hart e Wesley Snipes. La storia potrebbe quasi vedersi come un'autobiografia molto romanzata di Hart ma sinceramente meglio non fare questo accostamento. Il protagonista è un attore comico che torna alla sua città natale, Filadelfia e a causa di una nottata brava con suo fratello rischia di perdere tutto quello che era riuscito a costruire nella sua carriera. Quindi è una discesa nei bassi fondi dell'animo nel tentativo di equilibrare cosa sia giusto con fama e soldi. Lo segnalo perché a mio avviso il cast potrebbe meritare ma la storia in sé non so se mi prenderà tanto. Direi che con questo siamo veramente arrivati alla fine di questo video. No, giusto, mancano ancora tre novità su Netflix di novembre. Allora facciamo così. Voi mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così potete rimanere in contatto con le uscite dei miei video e soprattutto seguire gli altri miei post dedicati alla community e rimanere quindi aggiornati. Come sempre spammate ai vostri amici potenzialmente interessati questo video e io vi rimperò di gratitudine consigliandovi queste cose da vedere. La prima è Jumanji The Next Level in arrivo il 10 novembre. Si tratta del terzo film della saga, conto anche il primo originale del 90 e devo dire che ha riuscito benissimo a tenere testa al precedente. Poi arriva anche Dante's Peak il 16 novembre, una vera chicca dei disaster movie anni 90 che parla di questo vulcano che si risveglia facendo danni indicibili. Infine ecco Tic Tic Boom in uscita il 19 novembre. Si tratta di un musical incentrato sull'adattamento dell'omonima opera teatrale di Jonathan Larson. Con questo ho proprio detto tutto, tuttissimo di tutto per questo video. E noi ci si becca al prossimo MTIers. Ciao! Ciao!